Natura selvaggia della Sardegna, paesaggi interni unici e straordinari, difficilmente accessibili e poco frequentati dall'uomo, offrono riparo a una moltitudine di vita animale e vegetale. L'insularità e la sprezza del territorio hanno favorito la modificazione di diverse specie, dando origine a innumerevoli endemismi che costituiscono una biodiversità unica al mondo. Unici al mondo sono i cavallini della giara, dalle folte criniere e dalle lunghe code. Il cavallino della giara è di piccole dimensioni, ma agile e robusto. Riesce a superare, saltandoli senza alcuna difficoltà, i muretti di pietra a secco che delimitano i tancati presenti in diverse zone dell'isola. Ha un carattere indomito e ombroso che mal sopporta la doma. Il famoso studioso Cetti, nel suo libro Quadrupedi di Sardegna del 1774, scrisse Il selvatico abita luoghi deserti, soggetto a nessuno ed occupabile da tutti. Di così fatti ve ne sono in alcune parti del regno, nel territorio di Bulteie e nella Nurra, ma i più conosciuti sono nell'isola di Sant'Antioco. Sono di natura perversa, che non v'è modo di addomesticarli, ed alla fine muoiono disperati. O disperato il padrone li ammazza. I cavallini selvaggi vivono oggi per lo più sulla giara di Gesturi, altopiano basaltico di origine vulcanica che domina rilievi e pianure della marmilla. Secondo le stime più recenti sono presenti sull'altopiano circa 550 esemplari. Il suolo che costituisce l'altopiano, benché sottile e soggetto a erosione, è tuttavia molto fertile e fornisce un ottimo pascolo che i cavallini condividono con ovini e suini, allevati in gran numero allo stato brado. I boschetti di sughere, le praterie di Asfodeli e le paludi bianche per la fioritura del ranuncolo acquatico caratterizzano il paesaggio della giara. Le paludi sono l'elemento naturale più interessante. Originate da depressioni nella colata basaltica, raccolgono le acque piovane che costituiscono una riserva preziosissima nelle lunghe e siccitose stati sarde. Durante il periodo estivo la Sardegna si trasforma. Il verde intenso dei campi e dei pascoli di primavera scolora in un giallo mare di stoppie. Il sole implacabile prosciuga i torrenti e l'acqua diventa un bene raro. I cavallini trascorrono la maggior parte della giornata tra la vegetazione, alla ricerca di foglie e germogli. A orari ben precisi l'intera mandria guidata dal capobranco percorre ogni giorno gli stessi sentieri per raggiungere le fonti d'acqua sovente nascoste alla vista dell'uomo. Lo stallone dominante, che sempre allerta sorveglia il territorio, è pronto a dare il segnale di fuga al minimo indizio di pericolo. Conosciuti per la loro rusticità e resistenza, i cavallini della giara sono caratterizzati dalle piccole dimensioni comuni a molti animali dell'isola. L'altezza algarrese è infatti di 120 cm e il peso oscilla fra i 170 e i 220 kg. Nonostante le dimensioni ridotte, le proporzioni sono armoniose. I caratteri morfologici del cavallino della giara hanno subito negli anni diverse mutazioni, a causa degli incroci con cavalli di specie diverse. La colorazione originaria del mantello è rabbaio, morello o sauro con lunghe code e folte criniere. Nel tempo, su diversi esemplari, sono comparse stelle e liste e si è determinato un aumento delle dimensioni. Un'altra mutazione ha causato l'assottigliamento della cute e il pelo più morbido, rendendo i cavallini più vulnerabili alle avversità del territorio. Fortunatamente, vivendo nelle zone più impervie e lontano dal contatto umano, il cavallino ha conservato il suo carattere selvaggio ed esclusivo. Le mandrie familiari che controllano un determinato territorio hanno evitato il contatto con altre specie e quindi l'incrocio con individui esterni al branco. I cavallini della giara erano un tempo utilizzati dai pastori per il trasporto di latte e latticini, dagli agricoltori nel lavoro di trebbiatura e dai napoletani e siciliani per trainare i carretti carichi di frutta e ortaggi diretti ai mercati. Non si hanno notizie certe sull'origine del cavallino della giara. Non essendo stati ritrovati reperti fossili né tracce nella cultura antecedente al periodo tardo-nuragico, si presume che siano stati introdotti dai greci o dai fenici. Alcuni studiosi sostengono che discendano dai cavallini della numidia introdotti dai cartaginesi e che nel tempo la specie sia stata incrociata con cavalli di origine araba. Altri sostengono che la loro origine sia prevalentemente asiatica. Fino a tutto il Settecento, come testimonia e naturalista Cetti, erano presenti numerosi branchi che ormai rinzelbatichiti vivevano liberi in tutta l'isola. I cavallini della giara sono gli unici di quelle mante arrivati fino ai giorni nostri.